Sì, avete scelto di casa. Quali i compiti, ora? Al giorno 3 esce il testo 2011, giusto? Al giorno 3 esce il testo 2011 e il testo 2011. Giorno 3, per la magia. Chi di coglione, andai? E chi vuoi? Tu non mi stai coglione, vedi che la videocamera? Giorno 4 esce World Grand Prix Champions.